ragazzi benvenuti al video di oggi andiamo a ascoltare no dai già dico cosa devo ascoltare no andiamo al video di oggi diciamo che in questo momento sto registrando 3 video allo stesso tempo perché sono uscito un paio di video musicali che di canzoni che abbiamo già avuto l'occasione di ascoltare però se escono i video io devo guardarli sono interessato quindi ho detto dai due video in più anche se già fatti non fanno mai male al mio canale solo per riempire sapete quando vai al il ragazzo non sa cosa comprare tu riempi il carello no li paghi ma non paghi quindi e mi schilla andale oh gli orecchi cazzo ah c'è fit west side gun non ok like metterò di beat quindi saltiamo subito comunque sembrava più un pezzo freestyle altro che uno single se non aveva più un pezzo freestyle sono tutto sorpreso perché non mi era accorto che c'era il feat americano sicuramente a me il pezzo fa schifo no fa schifo a me non mi è piaciuto perché comunque a parte lì sono lì semplici ma sinceramente a me pezzo ha fatto cagare è il primo video in cui dico le cose come stanno e chi è piaciuto è piaciuto quello che penso io tu dici quello che pensi a me fatto schifo mi ha proprio arrazzato sto pezzo un'altra cosa comunque a parte delle cazzate invece il beat mi è piaciuto era proprio tutto a dritta però diciamo che il testo tutto non ha non ha avuto un senso per me io conosco un pezzo voglio voglio che ci sia un senso sa quella capacità di comprendere le cose invece questo pezzo una cosa che mi ha fatto comprare nel mio evento poi di cagare onestamente però dico che non mi è piaciuto un po' deluso direi che non non sono non sono un ascoltatore non sono un ascoltatore dei mischi dai tempi dei questa sera stasera c'è del rio a maracan da lì non ho più non mi sono più interessato però dico che no poche benzina mi sa anche un pezzo che mi è piaciuto però chi se ne frega sinceramente a me è piaciuto a cagare a cagare quindi tu dimmi cosa ne pensi se ti è piaciuto questo pezzo fammi sapere sotto i commenti iscriviti al canale commenta dai anche tu un tuo giudizio se devi giudicare su quello che ho detto io creati un canale fate un video dove tu non sta a venire a giudicare ciò che dico io tu puoi solo dire tu non sta a venire a tirare fuori cazzarra tu iscriviti al mio canale e basta ci becchiamo un altro video ciao